Il mercato deve essere, secondo me, unito. Dobbiamo essere tutti nella stessa area perché un mercato sdoppiato non ha senso. Non ha senso perché pure i clienti si confondono nel raggiungere. Però so che si stanno mobilitando per rendere idoneo il mercato di Piale Giostra, so che da oggi o da domani metteranno le segnaletiche e poi non lo so come decidono di agire, se devono fare i sorteggi per sdoppiarci. Comunque noi stiamo cercando di trovare nuove aree da proporre all'amministrazione perché ci ha promesso di trovare una soluzione. Siamo il 160, ma effettivamente il 160 non ci siamo mai nei mercati. Per cui noi paghiamo il suolo pubblico, paghiamo tutto. Loro ci vogliono la mora se non paghiamo in tempo. Però i bagni non ne abbiamo nei mercati. Io ho avuto situazioni con delle persone vecchiette che magari vengono al mercato a trovare un bagno. C'è bagni e non ce n'è. Siamo sempre abbandonati a noi stessi. Di sistemare la situazione dei mercati definitivamente per sempre. Non provvisorio, due mesi, tre mesi. Una volta il mercato a Mandelare, una volta a Piale Giostra, lo Ziro, una volta a San Filippo. I mercati devono esistere dappertutto in tutta Italia e devono essere sempre nei centri, in periferia, in montagna. Il sindaco, per come mi è stato detto dai miei colleghi quando sono saliti nell'ultima riunione, tramite pure la Dicos, è molto disponibile per darci una sisteminazione definitiva. Noi ci stiamo combattendo a trovare altre aree, così le proponiamo e vediamo se possiamo trovare una sisteminazione definitiva con tutti i requisiti e possiamo pure noi lavorare. Qua, per come avete visto ben voi, è fallimentare, però purtroppo non possiamo stare più senza lavorare. La forza della disperazione stiamo venendo qua a lavorare, pure un pezzettino di pane, però ci adeguiamo. Giustamente là sotto era molto diverso.